Buonasera. Prima che inizi il video, te ricordo che cliccare mi piace è gratuito. Ciao. 30 anni dopo il ritorno dello Jedi. Per chi ama il noir ironico, esce il 14 dicembre, su Bourbicon diretto da George Clooney. Sempre il 14 dicembre usciranno tre cinepanettoni in contemporanea. Un Natale da chef, di neri parenti con Massimo Boldi e molti altri, fra cui Biagio Izzo ed Enzo Salvi. Poveri Maricchissimi con De Sica, rossieguo di Poveri Maricchi, e Super Vacanze di Natale, un mix di gag e personaggi, per chi ha nostalgia dei Natali in compagnia di Boldi e De Sica assieme. Esce invece il 21 dicembre, l'uomo che inventò il Natale, la storia di come lo scrittore Charles Dickens, in un momento di crisi personale e creativa, riuscì a trovare l'ispirazione giusta per scrivere. Infine, il classico dei classici. Il film d'animazione Disney che quest'anno è Coco, nei cinema dal 25 dicembre. Speriamo di essere stati utili nella scelta del film natalizio, nel caso non ve ne piacesse nessuno, potrete passare il Natale, guardando le news di Telerumpo su YouTube. Arrivederci. Grazie a tutti.